Sera, sera, si, bel nuovo video, oggi siamo un gioco, un gioco molto bello, signori, siamo sui suacchi, andiamo, vai. Qua ho messo a scoccare sulla musica, la parte è che è molto meglio, già uno, è già messo a casa sotto, è troppo per fargli più bello. Allora, mi piace che non faccio più video, perché è una cosa incredibile. Ok, ok, mi sono già cagato, non? Allora, io gioco, sì, perché, no, chi è, chi è, chi è, chi è, porco Dio, porco Dio, porco Dio, mi sono cagato su, ma chi era? Ma chi era? No, che era, sono gioco in caiglia, per te. Ma chi era? 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 E' un mudo scena, per più. no via ma chiudere E' la... Noi la... Ma... 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 come faccio? appunto che c'è ahia come? è che non è io non c'è via come c'è ok qui ho vincuro questo è proprio vai guarda piano nel culo guarda vai guarda guarda il gioco è incredibile porco Dio ah cos'è che non metto più video in là perché non lo so cos'è che metto la seconda guffia se mi seguite ma Maria la seconda guffia la seconda guffia la seconda guffia la seconda guffia Ehm, lì no, ci vingiamo per servizio, ci vingiamo per servizio perché, no, troppo bello in questo gioco, però fa paura.